Un anno di reclusione e 90.000 euro di multa per Michele Emiliano, è quanto ha chiesto la pubblica accusa per il governatore della regione Puglia. Emiliano è sotto processo a Torino per finanziamento illecito e il PM ha chiesto la stessa pena per l'ex capo di gabinetto di Michele Emiliano, Claudio Stefanazzi, ora parlamentare PD, e otto mesi per due imprenditori coinvolti, Vito Ladisa e Giacomo Mescia. Al vaglio del tribunale ci sono le somme versate dei due imprenditori alla Eggers di Pietro Dotti, la società del torinese che si era occupata della campagna elettorale di Emiliano. Era il 2017, primarie PD. Il governatore spiega la sua versione dei fatti. Mi sono candidato molte volte, dice, e ho sempre seguito una regola. A occuparsi della raccolta dei finanziamenti doveva essere l'Associazione Piazze d'Italia, che era molto attenta a scegliere gli interlocutori. Per questo non ho mai incontrato nessuno e negoziato alcunché. Emiliano ha ricordato che era scontento del lavoro svolto da Dotti perché, a suo dire, avrebbe riciclato lo stesso formato campagna elettorale della Serracchiani in Friuli Venezia Giulia. Quando l'imprenditore cominciò a sollecitare il pagamento della prestazione, arrivando a chiedere un decreto ingiuntivo, Emiliano avrebbe discusso la situazione con i collaboratori. Per me era importante, spiega Emiliano, non passare per uno che non paga, tanto più che la questione era finita sui giornali. Con Dotti non parlai, non avevo tempo e non volevo dirgli cosa ne pensassi. Ero talmente seccato che dissi ai collaboratori di sistemare la cosa. Se avete i soldi, pagate, se no, ve li do io. Loro risposero non preoccuparti, ce ne occupiamo noi. Non sentì più parlare della questione fino a quando ricevetti un messaggio da Dotti. Sistemato tutto. Risposi solo va bene. Erano passaggi non chiari, aggiunge Emiliano, ma sono eventi non ascrivibili a una mia responsabilità. Mi spiace, ha concluso rivolgendosi al Tribunale, avere impegnato tanti anni il sistema giudiziario. L'unica consolazione che posso offrirvi è che ho sofferto quanto voi. Confido nella giustizia, dice infine. Questa, la dichiarazione spontanea, resa dal governatore in Tribunale a Torino nel corso del processo. Ma per l'accusa si trattò di un finanziamento occulto. Grazie a tutti.